Fall Guys, ma se perdo devo parlare in corsivo E se parlo in corsivo Perderò la mia Come dire Tutta la mia Dignità, possiamo dire dignità Dai, diciamo dignità, perché effettivamente Cioè nel senso, se io parlo in corsivo, raga Cioè, è cringe, ma proprio tanto Quindi adesso aspettatevi Che io perda la mia dignità Perché sicuramente, allora io faccio schifo A Fall Guys, no? Quindi probabilmente perderò Ma non è detto, non lo so, vedremo Scrivete, anzi Tipo, fate una sorta di pronostico nei commenti Tipo, scrivetemi si perderai o no non perderai Così vediamo un attimo quanti credono in me E quanti no, oh, mi raccomando E se mi dite non perderai E vuol dire che non credete in me, guarda, mi arrabbi un sacco Porca miseria, arrivo lì E vi metto un sacco di facce arrabbiate Di emoji arrabbiate, perché Mi raccomando Non fatemi nervosire Oh, bene Comunque, a volte sempre fuori di testa Comunque Dai, adesso andiamo al prossimo gioco No, raga Questo circuito è difficile Io dovrò parlare in corsia No Cioè, a volte mi parte anche a me Perché chiaramente Il corsia La professoressa è molto simpatica Cioè Comunque, raga, aiuto Cioè Come faccio? Faccio schifo io A parlare in corsia Oddio La mia dignità sarà completamente persa Vabbè Dai, ce la posso fare Comunque Adesso perderò il circuito No, ovviamente Dai No, dai Speriamo di non perderlo Adesso ce la posso fare Comunque, purtroppo oggi Non ci sono amici Cioè, vabbè C'è Brillaflea Che in realtà Credo che sia morto Però comunque lui non parla Cioè, praticamente inesistente Cioè, nel senso Mettete tipo Una F nei commenti Per Brillaflea Oppure, non so Mettete tipo qualcosa Nei commenti Brillaflea ti vogliamo Una roba del genere Perché Giusto per dargli un po' di Di grinta Un po' di senso No A ciò che fa Perché sinceramente Io se fossi in lui Tipo, mi sentirei Un po' inutile Giustamente Ma no Cioè, non gli sto Assolutamente Facendo una colpa Assolutamente Non mi permetterei mai Cioè Vai, salta bene Bene, molto bene Perfetto Giro completato Ok, un giro l'ho completato Ora, non so Quanto sia buono Questa cosa Perché potrebbe essere Che Muoio adesso Cioè, letteralmente Oppure che tipo Perdo Non so Che tipo Questo orso Mi vuole far qualcosa di male Guardate che Questi pericoli Ci possono essere sempre Voi dite Ma no Dai Tipo il guy Non ci sono E invece Ma secondo me Sapete La paranoia A volte Può essere La cosa che ti salva Sto scherzando Non siete paranoici Se siete paranoici Rivolgetevi Ad un professionista Della salutamenta Vabbè Comunque Non so Che cazzo Ti sto dicendo Andiamo avanti Forza Entriamo in questi Buchi Perché Ma però Non è possibile Cioè C'entro i buchi Ma poi dopo Non c'entro i quadrati Che cazzo Da faccio Sai che cringe Scusatemi tanto Faccio schifo Quando dico Ste cagate Veramente Spero di Ricordatemi di tagliarla Perché è più cringe Dove parlare in corsia Vi ho infatti adesso No Però Mi sono qualificato Raga Raga mi sono qualificato Mi sto dicendo Veramente che sono stato Di pro Oh Oh fuck me Cioè Scusate Vabbè Aspetta Vediamo un attimo Perché qua Evidentemente Vediamo se Ho perso O se ho vinto Veramente No Mi son qualificato Raga Assurdo Bene Taglio Ora Questa cosa qua Quando l'ho provata L'ultima volta È stata stra difficile Infatti Molti mi dicono Eh Stai in mezzo ai cannoni Ma il fatto che io Sono stato in mezzo ai cannoni Mi ha preso Saturno Una volta in testa Infatti Evitiamo di farci Prendere la Saturno Allora Raga È difficile È difficile È difficile Salta Dovrò parlare In corsia Amio Allora Amio Qua siamo di nuovo In partita Perché qua Il signor Brady Mi fa arrabbiare Perché prima Si smuta Scusate ma Adesso devo dire Questa cosa Non in corsia Allora Prima si smuta Poi Cioè Mi mastica Nelle orecchie Dopo Gli dico di star Muto Di non smutarsi Lui cosa fa Si smuta E mastica di nuovo E poi tipo Dice cavolate Io avevo fatto una battuta Bellissima Se l'ha smutato Per colpa sua ho perso Cioè Guarda che schifo Vabbè comunque Veramente O comunque Ragami Cioè Siete i temi amici Capite Vabbè comunque Adesso Però Amio Per l'incorsia Amio Che che gli amio Che che gli amio Amio Cioè Comunque Quando Inizio a parlare In corsia Amio Dopo Di piangere Non parlare Più Amio Topoliano Praticamente Che mi Masticano Le orecchie Cioè Veramente Ma che schifo Davvero Comunque Adesso Evito di parlare Di nuovo Così Perché poi Dopo Magari Non capito Niente Questa è la mia Paura Capito Quindi Adesso Alternerò Un attimo Ma comunque Ho parlato Un bel po' In corsia Amio Perché Se no A volte Ritornerò A parlare In corsia Perché ho Appunto Perso La prima Partita Quindi Di bel merito Assolutamente Soprattutto Io devo Imparare A parlare In corsia Ovvio Perché secondo me Sembrava Tipo un rosso Ok Sto prendendo I cerchi Amio Sto prendendo Bravio Davvero Bene Comunque raga Ditemi se anche voi Anche secondo voi Tipo blanco Ma anche da su prima A volte Cantano in corsia Ovvio Perché semmai Sì A volte Sì Raga Cioè Scrivetemi Nei commenti I cantanti Che secondo voi Parano in corsia Ovvio Perché secondo me Ce ne sono Allora Siamo rimasti In poco Mi devo qualificare Anzi Devo vincere Questa partita Perché così Almeno La mia dignità Sarà ripristinata Se no Non sarà mai più Ripristinata Poi dopo Diventa un casino Della madonina Però adesso Intanto Ci siamo Intanto Nessuno Sono primo Per caso Sono primo Per caso Stiamo scherziamo Stiamo scherziamo Amici Azzurdo Se sono primo Sono veramente un pro Però c'ho sto cactus Che è veramente enorme No 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 Stiamo attenti Perché qua La gente mi spinge Avanti Indietro Destra Sinistra Avanti Indietro Indietro Indietra Sapete che A volte Tipo Vabbè Niente Ok Sono raggiunto Ma ragazzi Sono un pro Della madonna Veramente Sono un pro Che tipo La madonna Mi Cioè Mi Niente Mi muto qua Andiamo avanti Amici Purtroppo qua Io non son capace Aiuto Allora Andiamo avanti Cerchiamo di essere Di essere tipo Di essere tipo De iero Qua si Qua va bene Qua no Qua si Qua no Ok sappiamo che quelle due Non sono Intanto Possiamo andare da questa parte Da questa parte Da questa parte No No Mannaggia 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 Raga 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 Oddio Mi sono qualificato Raga Sono un pro Un pro Perché ci tengo la mia dignità La mia dignità è la parte più importante Adesso vediamo se possiamo vincere Oppure no Raga Siamo proprio sul filo del rasoio È tipo una roba impossibile Adesso vediamo se vinciamo oppure no Bene Adesso dobbiamo superare la scalata Raga Questa cosa qua Mi devo tipo Traiardare come la madonna Veramente Qua Vi giuro Cioè Mi ci impegno come La scrofa Veramente di Gerbizzo Che è un nuovo paese Che è di mia invenzione Non è vero Esiste veramente E mi stupisco che voi Non mi crediate Cioè veramente È sciocante Però adesso posso vincere Posso prendere questa Mannaggia Le palle Mannaggia Le palle Quanto le odio Le palle Ogni volta Stanno in mezzo Ai collabrotteri Che sono dei nuovi animali Raga vi giuro Per perdere la pazienza Posso acchiappare Allora La corona Me la chiappo tutta Adesso proprio me la chiappo No guardate Madonna quanto ti odio Vi giuro Perché Qualcuno ha vinto Non ho ripristinato Raga scrivetemi nei commenti Corsivatore Corsivatore Ma no dai Troppo carino Per poterlo insultare Vabbè E raga E niente Lasciate like Mi raccomando Iscrivetevi Tanti commenti Per ripristinare Questo canale Della madonna Che ovviamente Non si fernerà mai Più di fare il video Perché ormai Ho finito la scuola Ve lo ricordo E grazie mille Per essere sempre Qua con me E al prossimo video E al prossimo video